I gesti, i rituali, quelli che ci accompagnano quotidianamente sono cultura, fanno parte della nostra essenza come italiani, come persone di buon gusto. È un viaggio, è un qualcosa che parte da molto lontano, ma che qui da noi si trasforma, prende vita, diventa inconfondibile, diventa parte della nostra essenza. Dietro di questo c'è studio, c'è ricerca, passione. Caffè Cagliari mi ha offerto la possibilità di estrarre l'essenza dalle loro due miscele di caffè per crearne due profumi d'arte, donandomi questa qualità di caffè incredibile, complessa, molto sfaccettata. Espesiado è una fragranza molto intensa, calda, avvolgente, con sentori frizzanti, piccanti, direi, ambrati, che richiamano il cacao amaro. Le resine mi suggeriscono l'utilizzo di opoponax etiope e labdano. Le note possono ricordare quelle del pepe nero, tocchi cardamomo, ma anche la fava tonca. Mentre fruttado è un carattere solare molto frizzante, si sentono chiaramente gli agrumi, agrumi il mandarino, l'olio essenziale di tangerino, ma ho anche ricreato un accordo di frutti vellutati, morbidi, note molto cremose, avvolgenti e il sapore morbido che rimane in bocca dopo aver assaggiato queste miscele uniche. Non il solito viaggio, non il solito caffè.